Bentornati a TG Pulse Focus, oggi ci occupiamo di una faccenda di lavoro, una faccenda che riguarda una ditta di scorzè, una ditta che da un anno sta soffrendo per la volontà della proprietà di chiudere e lasciare a casa 50 persone. I sindacati FIC, MCGL, oggi abbiamo Davide Stoppa, si stanno battendo come dei leoni, ancora non si riesce a venire a capo, fatto sta che il personale dell'azienda è lì e si sta cercando ancora l'acquirente, a che punto siamo? Oggi abbiamo avuto un nuovo incontro in regione Veneto, dove abbiamo fatto un accordo sindacale ancora mesi fa e abbiamo messo alcune condizioni interessanti per cercare di far subentrare una nuova società al posto di Action Nobel che ha dichiarato la chiusura del sito di Peseggia per trasferire produzione all'estero. Oggi abbiamo avuto questo incontro dove c'era presente l'advisor che sta facendo un lavoro per la ricerca di queste nuove società che possano subentrare le produzioni e assumere quindi tutti anche i dipendenti della ex Action Nobel. È una cosa complicata, è un percorso complicato perché tra l'altro anche cade in un momento particolare dove con la scusa del 110 che si sta bloccando anche il settore del legno e delle vernici per legno è in stallo e quindi si fa un po' fatica a far combaciare l'esigenza di aziende di questo settore con il momento di oggi e quindi si stanno incontrando delle difficoltà perché ci sia qualche interesse. Però l'advisor ci ha riferito che ha sentito molte società, molte aziende, più di 100 e che di queste aziende ci sono degli interessamenti, alcuni per i dipendenti per assumere i dipendenti, altri stanno valutando anche il subentro nelle attività oppure nel sito. Insomma le speranze ci sono che l'azienda possa rimanere lì a Peseggia? Le speranze ci sono seppure come dicevo in un momento complicato come quello di oggi, però di fatto insomma il lavoro che sta facendo l'advisor è un lavoro a 360 gradi sia con aziende del territorio sia con aziende nazionali e anche internazionali e sta cercando di capire insomma quelle che possono essere le soluzioni anche tastando terreni tipo associazioni di imprese insomma di varie aziende che possono essere interessate a mettersi a scena. Allora città reti informati, naturalmente poi sarà nostro compito divulgare e far sapere come vanno le cose. Grazie davvero Davide Stop dalla Filtam CGL, grazie per il vostro lavoro, a presto e in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie a voi.